economia aziendale flipped classroom sull'assegno circolare definizione di assegno l'assegno è un titolo di credito che viene fornito ai clienti di una banca che hanno aperto un conto e grazie all'assegno i clienti possono pagare senza portarsi dietro denaro contante a patto che ci sia sul conto l'importo corrispondente alla somma indicata nell'assegno esistono due tipologie di assegni 2.1 assegno bancario 2 assegno circolare in questo contesto ci occuperemo dello specifico dell'assegno circolare vedremo perché è ancora più sicuro dell'assegno bancario vediamo l'assegno circolare che ha un titolo di credito che dà diritto ad incassare una somma di denaro e viene messo dalla banca solo vedete solo se ci sono fondi disponibili sul conto del cliente ed è per questo considerato più sicuro quindi se ci sono i soldi sufficienti che corrispondono all'importo desiderato dal cliente quindi dal correntista allora la banca emette questo assegno ma soltanto se ci sono i soldi quindi è sicurissimo più che sicuro è ancora più sicuro dell'assegno bancario perché il beneficiario non ha la certezza assoluta ovviamente nel momento in cui il cliente della banca emette l'assegno che ci siano poi i soldi sul conto vediamo un caso pratico nel quale può capitare che venga effettuata l'emissione di un assegno e cioè in caso di acquisto di una fornitura di merci buongiorno mister sigara quante materie prime ha comprato buongiorno ugo voglio aumentare il mio volume d'affari ma è sicuro che potrà pagarmele ma certo ho un assegno circolare con me pari a 1500 euro non ho denaro contante con me va bene a patto che ci siano i soldi sul conto corrente bancario però ma certo e si fidi di me l'assegno circolare lo emette la banca solo se ho denaro sufficiente a coprire un determinato importo quindi li prende dal mio conto ed emette l'assegno cioè si accerta proprio che ci siano questi soldi va bene proprio l'importo che mi deve per l'acquisto della merce va bene accetto il suo assegno ed ecco quindi l'assegno circolare lo vediamo completo già compilato c'è la scritta in rosso al centro che è la dicitura fissa dell'assegno circolare pagherà a vista per questo assegno circolare pagherà perché è una promessa di pagamento e in questo ricorda appunto il pagherò la cambiale mentre l'assegno bancario è un ordine disposto dal cliente quindi traente alla banca trattaria di pagare l'importo dell'assegno al beneficiario indicato appunto sull'assegno o ai beneficiari all'ultimo beneficiario risultante dalle girate allora invece appunto l'assegno circolare somiglia molto appunto ad un pagherò perché contiene una promessa di pagamento c'è in alta sinistra il nome della banca il logo della banca la dicitura che abbiamo appena visto la clausola non trasferibile perché gli assegni circolari superato l'importo di 1000 euro non possono essere trasferiti poi c'è l'importo in cifra e l'importo in lettere poi viene indicato il beneficiario il taglio massimo il taglio proprio dell'assegno questo assegno vale fino a 2000 euro quindi il tetto massimo di importo che si può indicare in questo assegno circolare e poi c'è ci sono le cifre delle migliaia e le cifre delle centinaia quindi nel caso di questo assegno 1500 cercheremo l'uno delle migliaia e il 5 delle centinaia e alla fine c'è la firma della banca ma andiamo a vedere passaggio per passaggio ecco l'assegno circolare dice appunto mister cigar che ho per lei vediamo come è stato compilato in banca prima di venire qui e vediamo l'impiegato il direttore cosa dice per prima cosa verifico se ha i fondi disponibili per coprire l'assegno sul conto ok ci sono 5000 euro va bene possiamo farlo inseriamo logo e nome della banca poi la formula pagherà a vista per questo assegno circolare e il numero dell'assegno 312 nell'esempio in questione poi inseriamo la clausola non trasferibile in quanto l'assegno supera il tetto dei 1000 euro significa che superata questa cifra non si possono fare ad oggi le girate come per le cambiali in base alla normativa vigente ovviamente e poi inseriamo l'importo in cifre quindi 1500 ora inseriamo l'importo dell'assegno in lettere e il nome del beneficiario quindi importo in lettere 1500 barra 00 importo in lettere quindi il nome del beneficiario che dovrà incassare l'importo appunto indicato nell'assegno circolare e cioè ugo katochin che è il venditore di materie prime poi c'è la sezione del tetto massimo dell'importo vale fino a quindi il taglio dell'assegno che è da 2000 euro quindi la cifra massima che si può indicare questo assegno circolare mettiamo 2000 euro e l'indicazione delle centinaia e delle migliaia dell'importo dell'assegno quindi migliaia andiamo a mettere un cerchietto sull'uno perché è 1000 e andiamo a mettere un cerchietto sul 5 per quanto riguarda le centinaia che è riferito alle 500 quindi 1500 si legge così se fosse stato 1200 avrebbe messo il cerchietto sull'uno e sul due delle centinaia infine la firma della banca ecco il suo assegno circolare più che sicuro per il suo cliente e questo veramente è uno strumento di pagamento un titolo di credito più che sicuro perché a differenza dell'assegno bancario l'assegno circolare viene emesso solo se ci sono i fondi sufficienti a coprire l'importo che serve appunto al cliente al cliente della banca torniamo quindi dal compratore dal venditore ecco come è andata l'assegno circolare quindi è suo bene mi sembra un'ottima soluzione dice ugo catochine no perché più che contento anche di più rispetto al tutorial precedente perché lì era stato pagato in sostanza era stato il debito il suo credito era stato onorato con un assegno bancario adesso con l'assegno circolare ancora più felice perché è sicuro appunto di incassare la somma relativa alla vendita delle materie prime ed ecco vedete che mister segar consegna materialmente l'assegno circolare ed ecco qui che si completa l'operazione abbiamo visto come si compila un assegno circolare spero che questo tutorial sia stato di aiuto e supporto un caro saluto da flip and prof e grazie per la visualizzazione